Partiamo dalla terza classificata, signora dovete premiare voi alle donne, terza classificata per la vice nuova di Salerno, Nicoletta Rinaldi, terza gara femminile, facciamo premiare la signora, lei lo prende anche come prima giffonese, la seconda classificata, l'atleta di Giffonese Laura delle donne, lei che è atleta di Giffonese, poi dopo avrà un premio unico cumulativo per la prima di Giffonese, lei che è di Giffonese, dopo avrà un premio unico cumulativo, ci rivediamo dopo, prima classificata per l'equa trail running, Lucia Pepe! col bambino e anche questo premio la foto con le ragazze, un'altra ragazza in mezzo a questi fiori, un applauso al podio femminile del Memorial Pasquale Giannattasio 2016 grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori